Salve a tutti ragazzi e ragazze, bentornati a Pikmin 3! Come vi sentite oggi? Io bene! Oggi atterriamo al fiume tramonto... Eh, cosa ando a dire? Esaminando gli appunti scritti dall'abitante di Ocotate che abbiamo raccolto finora, risulta che quell'abitante di Ocotate potrebbe aver raccolto la nostra chiave di attivazione. Capisco, allora è questo che è successo. Mi inquieta un po' però, se ci venissero rubate le scorte alimentari... Non temere, Brittany, io il tuo capit... Bene, direi che potremmo raccogliere il cibo durante le ricerche dell'abitante di Ocotate. Sì, sì, certo, stavo per dirlo. Ok, non è nient'altro che Alf che cock blocca Charlie, la maggior parte delle volte, i discorsi. Ok, atterriamo qui e il lampone è ancora lì che ci aspetta. Ve lo siete mai chiesti perché la frutta è lì pronta, fresca e non invecchia mai? Io non lo so. Le radiazioni hanno trasformato... Le radiazioni hanno conservato perennemente la frutta. O semplicemente le giornate durano meno per noi. Percezione diversa del tempo. Solo 39 Pikmin Rosa adesso, per colpa del disastro l'altra volta, ma non importa. Allora, quest'oggi, prima di andare... Oh, come on... Eh, non ci arrivo, vero? Ci arrivo ma senza i Pikmin? Beh, io... Oh, fuck! Ok. Ok. Si ricomincia. Questo posso anche lasciarlo dentro, tanto. Ok. Chuck 2. Come stavo dicendo? Non so cosa stavo dicendo in realtà. Prima di tutto... Mi piacerebbe... Prendere delle rocce bomba. Bombardieri più carini della storia. Eh, sicuro che ce ne sono stati i più carini. Anche dei più maliziosi. Allora, il disastro di ieri, il finale, mi ha dato un po' sui nervi, ma... What the fuck? Aha. Grazie, Pikmin. Pikmin... Ok. Ammetto di aver visto una speedrun di Pikmin... 3. E ammetto che a volte imbrogliavano quei Pikmin volanti. Ma quella cosa non me la ricordavo. Non so neanche se l'ha mostrato in quella che ho visto. E' fantastico! E cosa mi servono questi adesso? Voglio demolire quel ragno che mi ha dato problemi ieri. Ehi, amico. Vai! Enjoy! Bene. Eh, la pera è fuori. Questo muro sarà inutile forever, quindi... A meno che domani torna dentro. In quel caso la pera vagante rimarrà uno dei sette misteri... ...della nostra civiltà. Oh no! Ok, Brittany... Eh, voi... Visto che tanto siete rimasti indietro per qualche motivo... Eh, fammi pensare... Dove sono i coleti? Sono qui, vero? Riusciamo a sfondare quei coleti? Posso anche continuare a esplorare da questo lato con lei. È un po' poco con questi pochi Pikmin che ha, ma... È meglio che aspettare di nuovo che tutto si metta... Ok, occhio! Occhio a quel coso! Eh, scendiamo! Allora, che abbiamo qui? Eh, uh, Olimar. Credo che in due si possa usare quel fungo per raggiungere l'altra sponda... ...ma pur provando svariate volte io e lui non ci siamo riusciti. In questo momento mi rendo conto che l'affiatamento è importante. Oh, chissà che cosa sta facendo la mia cara mogliettina lì suocotate! Sei convinto che sia suocotate, Olimar? Oh, che è un muro elettrico. Date, ragazzi! Datevi da fare. Voilà! Pio avanti... Non so bene cosa c'è, quindi aspettiamo un momento. E questo è il posto dove ci lasciano le altre ninfee. Oh, Olimar ancora. Ho esplorato in lungo e largo anche questo pianeta. Ho sostenuto innumerevoli battaglie. Non credo che questo mi serva più. Lo sotterrerò qui nei dintorni perché anche se non in quest'area potrebbe essere utile anche a qualcuno in futuro. Ha sotterrato qualcosa? Qui intorno. Ok. Oh, lì sotto c'è un... cosa? Pomo... Pomo... È un... è un coso. Qui cosa c'è? Oh, shit! Ok! Mi sembrava che eri nei dintorni. La vermentilla pileata. Con le piume in HD? Ok. La posso sbombare? Vai! Sbombardala! Non so se funziona ma... Chi lo sa! Oh! L'ho fatto danni? Eh... Ok. Un quarto di vita normale. Vai! Yeah! Ok. Guardate come perdo le piume. Ok. Vediamo se... Riesco a... Prendete la faccia! La faccia! Continua a beccare il nulla! È solo... È molto meno problematica che negli altri giochi. Guarda, non ha neanche mangiato perché l'abbiamo colpita. Guarda, si è incastrata! Prendetela! Prendetela! Ha deglutito? Ha mangiato qualcosa? Capisco perché non riusciva a deglutire. Ho sentito parlare di pomodadamo, ma... Questo è un pomo di Ercole. Ah, che pazzo! Suicidati! Suicidati! La diamo ai Pikmin rosa? Eh, riescono! Oh god! Potrebbe essere la foto di oggi. Voglio vedere come lo... Trasportano. Ok! Ci ho sprecato fin troppo tempo per sta cosa! Ok, riuniamoci un po', rifacciamo l'inventario della situazione. Perché è stato un po' un disastro. Ok, bravi, avete sfondato il muro mentre io cazzeggiavo. Tu ti sei incastrato. Ok, quanti siamo? Dovrebbero essere solo dieci in giro per i monti. Ok, 90 su 100. Vediamo un po'. Oh! Qua già una nuova area ancora? Oh! Una nuova... Un nuovo sacchetto. Un nuovo scorciatoio. Perfetto. Quindi magari posso cominciare a portare indietro roba ora. Mi resta solo una rocciabomba. Non riuscirò mai a sfondare tutti quei coliti con una sola roccia. Ok, ragazzi. Andiamo a riportare un po' di frutta al... al nido. 21 rossi? Non ne avevo preso 20 per colore. Ok, voi andate a portare quello. Perché teoricamente è fatto apposta per evitare i coliti. Questa zona. Allora. Perché questi sono i recinti di bambù. Che non mi piacciono per niente perché servono i Pikmin Rosa per sollevarli. E poi purtroppo però i Pikmin Rosa restano lì a tempo indefinito. Ok, allora. Prima cosa metto... Dovrebbero essere intelligenti abbastanza per non andare verso i coliti. Ok. Go, 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 go. Chiudere! Ok. Ok. Andata... What? What the fuck sta succedendo? i Pikmin stanno morendo. È zona mela, vero? La mela è ferma. Dov'è la mela? È qui sotto. Sette su dieci. Chi li ha colpiti? Io non vedo niente. La foglia secca! E quella ninfesta glitchando mica male. Sono condannati. Almeno sono nati dei Pikmin... Cioè i Pikmin Rosa sono arrivati a consegnare la vermentilla. Sì, ok. La foglia secca del manga. Sono condannati a un predatore selvaggio la foglia secca. Vabbè. Grazie di aver servito il vostro paese, ragazzi. Oh, però devo salvare loro almeno. Ok. Il caco può aspettare. Tempo di fare giustizia. Come on! Fucking foglia secca! Kill it! Kill it! Dov'è? Dov'è? Prima che uccida ancora! Ok. Predatori selvaggi che non sono altro. Vai, portala. A casa. Mamma mia. Oh! Sì, sto per lasciarli sopra. Ok. Ora, il caco è partito. Oh no, ok. Rocce, andate. Rossi, andate. Ok, non faremo il ponte oggi, ma vabbè. Racogliere frutto e fare il ponte sono entrambi gli obiettivi piuttosto nobili circa. Chissà. Sì, c'è abbastanza tempo. Mandò... Ok. Metto voi a raccogliere quello. Ok. Un bel raccolto sostanzioso. Poi, c'è anche questo che non è niente male. Un, due, tre, quattro, cinque. Meglio approfittare di... Di questi che non cambiano colore. Allora. C'è anche questo. Adopami restano solo dieci. Oh god! Guardalo lì, guardalo lì. È quello che non ho ucciso ieri perché eri in acqua. Che infamone. Vai. Rosso, portalo a casa. Ehm. Oh shit! No, di qua. Mi sono perso un po' adesso. Allora. Dov'erano quei cocci che volevo prendere? Andiamo un po'. Oh shit! Smetti di andare con i tricoliti. Allora. Bravo ragazzi. Fate il vostro lavoro. Sono un pochino lenti ma dovrebbero arrivarci senza problemi. Ehm. A destinazione. Ma anche se è un po' l'artura che la prossima volta si rigenerano tutti quanti. Ehm. Se posso passare da qua sarebbe l'ideale. No eh. Devo proprio farli rimbalzare su quel tronco. Quindi niente roccia bomba. Dov'erano mi lanciare. Ehm. Ehm. Si sono incastrati. Ehm. Lasciamo perdere per oggi. Ok. Ok. La zona è questa. Ci sono delle cose lì. Cos'è? È un frutto. Ok. Buono saperci. E qua rallenta parecchio. Quindi c'è il tempo di lanciarli lì sopra. E poi di là. Ok. Niente roccia bomba però purtroppo. Riusciamo a trasportare la pera? Questa è la mia domanda per oggi. La prossima volta non mi farò più fregare da... Da interruzioni. Ma non importa. Quest'area è bella. Ok. Liberiamoci di questa. E ehm. Trasportiamola almeno giù cos'è più facile da prendere la prossima volta. Go! Quanto cacchie mi servono? Ok. Diciamo che seguo i pigmin per... Fino al tramonto. E... Poi è finita. È stata un'altra giornata carina oggi. Tutto sommato. Oh god. Abbiamo anche fatto fuori la vermentilla quindi. E sono convinto che i rosa hanno fatto un bel progresso rispetto a ieri. Gli ho dato la vermentilla e due gettoni del loro colore. Quindi dovrebbe essere andata piuttosto bene. Io la so. Se abbiamo fortuna magari riescono anche a portarla vicina. Go! Ok. Wow 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 wow. Guys non sganciatemi i pigmin di altro colore. Oh. Guarda che c'è... Quella pera è strana. È in una strana posizione. Alcuno prenda quel lampone. No! Fermati! Ok. Oh il lag. La colonna! Fermo! Prendi quel lampone! Ok! Oh! Oh my god! Ah! Ci siamo tutti! Bene! Oh god! La squadra del gameplay! Siamo tutti qui. A stringerci così. E quando il batticuore non ci lascia mai... E chi si ricorda? Che canzone era? Oh 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 oh. Bene. Phew! Oggi è andata bene. A parte quell'insetto stecco... Sì. Quell'insetto foglia che ci ha fregato. Dovrebbero mettere gli insetti stecchi. Vedete presenti quei... Quei ponticelli di legno che vanno costruiti. Ecco. Qualcosa del genere. Solo che dopo che l'hai costruito ti infilza 5 pikmin e li uccide. In qualche modo. Guardali! Siamo riusciti a portare tutta la frutta? Non ci credo. Tutta quella che era portata di... Pikmin. Hihi! Altra frutta! Abbiamo il condominio di insetti. Mi fa venire voglia di mangiarla proprio. Ricordate bambini? Non lavate i denti dopo che avete mangiato una mela. Subito dopo almeno. Perché quello che c'è nella mela intacca la placca dei denti. Oh god. E poi mi chiedo perché la gente si disiscrive. Che è sta roba? Non mi sento maschie abbastanza. Siamo riusciti a raccogliere una buona parte dei frutti disponibili sul pianeta. Che squadra siamo? Sì. Abbiamo completato due linee. Quindi saranno... Trenta varietà, credo. In totale. Non bastano assolutamente. Ne servono ancora. Dobbiamo raccoglierne molti altri. Più cibo riportiamo su Coppae, più bocca riusciremo a sfamare. Il sole succoso. Mi ci piacerebbe avere una curiosità su ogni frutto, ma... Boh, chiediamo a Angelo Piera. Piero Angela, non a Angelo Piera. Angelo Piera dovrebbe essere in prigione. Quello vero probabilmente... Avrebbe di più da dire. I tipi di natura amica. Il sole succoso. La polpa fiorita. Guarda lì. Io voglio un frutto col succo blu. Ma non ci sarà mai. L'unico blu che avevamo erano le scorte iniziali. Che erano probabilmente succo di... Boh. Barbabietola. Elegantina. E la chiamerei Glicina. E voilà. Ho completato entrambi i bicchieri. Peccato, volevo vederlo mischiato col viola del lampone, ma... Non importa. Graziosina Elegantina. Episodio elegante oggi, eh. Non proprio, ma... Voilà. Finalmente, è ora di cena. È un vero peccato dover star lì a razionare il cibo. E almeno avete bevuto decentemente oggi. Con questa bella scelta di risorse alimentari non dovrebbe essere un problema la cena. Bene. Giorno 17. Una delle mie giornate preferite, devo dire. Bricca di emozioni. Guardali! 77 Pikmin rosa. Bene, bene. Abbiamo perso 6 Pikmin per colpa di quella foglia. E forse anche altre cose, ma... È andata bene. Sono soddisfatto. Chi scrive il diario? Brittany? Charlie? Mancano i diari di Charlie. Li scrive troppo poco spesso. Osservando attentamente i Pikmin rocciosi, ho notato che hanno il corpo duro e se lanciati direttamente su un obiettivo, posseggono un elevato potere distruttivo. Inoltre, nonostante il loro corpo robusto, hanno delle gambine incredibilmente sottili. Che invidia, vorrei essere come loro. Ovviamente mi riferisco alle gambe. Non al resto. Come è passato il discorso da... Parlare di Pikmin roccia... Ok, Brittany. Grazie dell'input. E grazie a voi dell'attenzione. E una buonanotte a tutti, buona serata. E... Sei un giocattolo, non puoi volare!